L'amministrazione comunale di Battipaglia ha comunicato le date per il ritiro del pacco alimentare per quel che concerne il mese di novembre. I beneficiari rientranti nel progetto Condividere i bisogni per condividere il senso della vita potranno recarsi presso la sede del nucleo comunale di protezione civile situata in via Gonzaga il 13 e il 14 novembre dalle 18 alle 20. Il mancato ritiro del pacco da parte del beneficiario per due volte consecutive senza giustificato motivo comporterà l'immediata decadenza dal beneficio e lo scorrimento della graduatoria.